Si è giocato ieri sera a Casnigo il derby della Val Gandino. Per la prima categoria gironee si affrontavano le F squadra di casa contro la Gandinese. Diffontra un pubblico delle grandi occasioni, è stata una partita che ha vissuto di emozioni, però la vittoria alla fine è andata alla formazione dei rossoneri della Gandinese per 3-1. Squadra che si è dimostrata più avanti a livello fisico, ma soprattutto anche a livello di organizzazione. La posta in palio era alta per entrambe le squadre, il LF aveva solo un risultato, quello della vittoria, se voleva continuare a sognare l'ingresso nei play-off per la Gandinese sarebbe bastato anche un pareggio. Però certo con una vittoria la squadra di un'azio si sa al secondo posto in classifica e nelle ultime due giornate cercherà di mantenere questa posizione che garantirebbe sempre le partite casalinghe dei play-off, ma soprattutto il doppio risultato. L'inizio per il rossoneri è comunque stato difficile, visto che il LF ha probabilmente approcciato meglio la partita e già al decimo si portava in vantaggio con una gran sassata di Brasi dei 20 metri circa, con la palla che si collocava all'angolino alla destra di Bergamelli. La Gandinese però, orfana di un giocatore importante come Masinari, pian piano cresceva a centrocampo, prendeva a mano il gioco e cominciava a rendersi pericolosa verso la porta di Lazzarini. Il LF poche volte riusciva a partire nel contropiede e man mano passava i minuti da squadra, bianco-azzurro un po' si abbassava. La fortuna però bacia i rossoneri perché praticamente raggiungono il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo quando su un calcio d'angolo la palla resta vagante all'interno d'area piccola di rigore dopo un tocco di Carrara e Folzi sottoporta, non può sbagliare, il tapin vincente. A rientro degli spogliatoi, mister Bonazzi opta due cambi, uno sarà devastante per quanto riguarda la partita e quello di inserire Nari sul settore di destra. Il giocatore però dimostra la grossa crescita nelle ultime giornate con un gol di grande fattura. Parte da destra, si accentra, salta un avversario in area di rigore e poi colloca la palla sul pallo lontano. Ci si attende la grossa reazione da parte della formazione dell'LF che forse non ha più neanche la forza fisica per provare a reagire. È tutto sommato timidamente riesce a portarsi in avanti qualche volta l'LF ma non dà mai impressione di creare pericoli della gandinese. La squadra rossonera guidata dall'ottimo capitano Carrara dà sempre l'impressione di controllare a centrocampo. Ma il gol che chiude definitivamente la partita è al 94esimo circa quando un contropiede di Folzi, molto bravo a partire dalla propria metacampo, vede tre giocatori rossoneri contro uno. Folzi sembra perdere l'attimo buono poi in certo punto riesce a servire a piantoni. Per l'esperto giocatore quando si trova uno contro uno e soprattutto con uno spazio all'interno della rigore dove si può calciare la sentenza è data. Parte dunque la festa rossonera che vuol dire matematica certezza di partecipare ai playoff ora bisognerà decidere in che gradatori essere. Fabio Carrara che soddisfazione primo derby in assoluto con la fascia da capitano tanta roba vincere così e conquistare così i playoff. Guarda il mio sorriso dice tutto è veramente una sensazione incredibile per come era iniziata la partita abbiamo reagito abbiamo messo il cuore è un gruppo veramente fantastico. All'andata non c'ero per infortunio in Coppa anche lì ero mancato quindi è proprio il primo derby in assoluto vinto così veramente mi rende orgoglioso e felice per questa vittoria e per questo gruppo fantastico. Guarda come ti avevo detto quest'estate quando ci siamo trovati un gruppo nuovo praticamente tre quarti di squadra giovane senza con poca esperienza ci siamo ci siamo compattati e man mano abbiamo preso entusiasmo vittoria dove vittoria le prestazioni intanto mancavano ma il cuore c'era sempre e anche oggi l'abbiamo dimostrato e piano piano siamo andati increscendo fino a oggi dove come dici tu matricola terribile e nessuno credo che voglia affrontarci in questo momento. Le prossime due partite di campionato definiranno il tabellone definitivo per i playoff hai già dato un'occhiata quali saranno le possibili avversarie ma non avete paura di nessuno. Guarda no adesso matematicamente siamo dentro dobbiamo solo definire in che posizione arrivare e dipende da noi siamo secondi con un punto di vantaggio quindi vincendo le prossime due arriveremo matematicamente secondi non credo che nessuno voglia incontrarci di conseguenza penso che si metteranno a fare i conti loro per non per non occuparsi con noi e ci sarà da divertirsi. È un notizie sport ricco di tanti avvenimenti con i risultati arrivati proprio ieri sera ma cominciamo invece con ordine andiamo dal ciclismo paraciclismo dove Claudia Cretti firma la doppiette alla due giorni del mare di Marina di Massa. Prima prova in linea su strada per il paraciclismo. Per il ciclismo femminile invece è arrivato al secondo posto incredibile con tanto rammarico per Elisa Balsamo alla Parigi Louvain dietro in volata alla Copecchi e ieri è invece arrivata la vittoria importante ancora dell'Inja Longoborghini che si conferma in grande forma e forse la tetta migliore in questo periodo nella freccia del barbante. L'atleta italiana batte nel finale la Vollering. Ma ieri poi è arrivata la bella notizia per quanto riguarda il ciclismo su pista. Benne tre bergamaschi a guidare l'Italia nella Nation Cup che fa un po' da preliminare alle Olimpiadi. Saranno Elisa Balsamo, Chiara Consonni e Martina Fidanza. Passiamo poi all'atletica dove tanta scena l'Innovation Run sulla 10 km di strada. al chilometro rosso parla praticamente straniero. A vincere in campo maschile è Kip Korir, primo in 29.11, mentre in campo femminile è Susanna Maria Sapuchi. Per la prima volta una donna scende sotto i 33 minuti e chiude in 32.57. Grande prestazione di Lina Dirca Avagna, atletica Vavrembana, che chiude secondo in 29.13, in campo maschile a solo due secondi da Kip Korir. Bellissima anche la prestazione di Cesare Mestri, atletica Valli Bergamasche LF, che chiude al quinto posto in 29.52. In campo femminile la segnala invece la prestazione di Beatrice Bianchi, l'atletta Alta Sebina della Recastello Race Club, chiude settima in 36.19. Pronostici rispettati per la prima edizione della lenzione 3i, l'andata in scena in Valle Imagna domenica 7 aprile. A vincere la competizione organizzata dal Fly Up Sport, Paolo Poli in campo maschile e Daniela Rota in campo femminile. E chiudiamo con l'atletica, notizie delle ultime ore, sono stati stilati praticamente i campionati italiani di corso in montagna, che si svolgeranno nella provincia di Sondrio. Quello di trail corto è in programma domenica 14 aprile a Morbegno e quello invece di salita e discesa riservato ai giovani e agli assoluti è in programma il 4-5 maggio a Lanzala. Sfogliando la lista degli iscritti spiegano nomi importanti, anche dalla nazionale azzurra al femminile, a riconfermarsi campionessa italiana sarà proprio Alice Gaggi. Dovrà però difendersi degli attacchi di Cecilia Basso e di Elisa Vesco. In campo maschile, dopo la seconda posizione ottenuta lo scorso anno, torna questa volta invece per trionfare il brianzolo Luca Delpero, che dovrà fare i conti con l'Ariano Fabio Ruga e lecchese Lorenzo Beltrami. E chiudiamo poi Pillo di Sport con risultati che sono arrivati ieri sera per quanto riguarda il basket Serie A2. La Blue Basket Treviglio si ritrova, c'entra la seconda vittoria consecutiva ma soprattutto sbanca la Paladozza di Bologna per 82-78, presentandosi al meglio in queste finali play-off. Per la Serie B interregionale, per il Silver c'era un recupero, lo vince la Blue Robica Bergamo 72-63 contro Piatra e magari sogna ancora la possibilità di centrare i play-off nazionali. Chiudiamo con i risultati del volley, ci sono giocati il ritorno delle gare di semifinali per quanto riguarda lo scudetto femminile, Scandicci va a sbancare Milano per 3-0, avendo vinto l'andata anche per 3-0 si qualifica praticamente per la finale, ma la grande sorpresa arriva da Novara dove l'Igor, con zona Novara, batte con Liano 3-2 e la costringe la pella terza partita.